6 il signore che rimane vedo e dice al suo medico personale che sono amici, sono tutti al bar di Gercorse e gli stascenti e gli consiglio una madomma a certe tue e io sei quando dormi in tutte le cion cosa hai detto? e il medico lo consiglio venga a dire se ti vuoi ma mi prendo un po' di Iagra e questo toglie il col il batone toglie il fegato toglie il regno toglie il regno e toglie ancora il piede Iagra ma toglie un pantano a tenere a questo sacco o cosa ma mi mi scherdeva no 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 piene un diabo tutto bene aia aia una rivista da noi medici tedeschi che adesso che mangiando tanto panno e niente effetti collaterali allora se domani vado al panno a tè con il rino e tutto il mattino piove due rosette e il panno a tè con il ventre piove due rosette e tutto il ventre piove due rosette e tutto il ventre piove due rosette e quella diere dame due quilo di panno ma se ti vuoi ma finisco tu vendeure dame tre quilo bisogna panni guardate queste con що in abbiamo